5 comics da leggere tutti d'un fiato Che cosa vi propongo? Beh, Batman dannato, DC Black Label Batman che deve combattere contro il suo peggior incubo, se stesso Wonder Woman Terra Morta Terra Morta vuol dire che Wonder Woman dovrà combattere contro il suo peggior incubo, se stessa Spider-Man tornando a casa Che cos'è tornando a casa? Tornando a casa è Spider-Man che deve combattere contro il suo peggior incubo, se stesso Avengers Divisi, gli Avengers che combattono contro il loro peggior incubo, se stessi Ed infine Il Corvo, di James O'Barr Un fumetto che è una lunga introspezione in se stessi In cui appunto vedremo se si avrà effettivamente un'epifania o meno Ma è bellissimo